Saranno i giardini del frontone a Perugia da venerdì 25 marzo e fino al 3 aprile la meta dei golosi per l'edizione di Auro Chocolate formato primavera con l'uovo, simbolo della Pasqua, ma anche in generale della nascita, icona voluta dal patron Eugenio Guarducci che nel salone d'onore di Palazzo Donini ha presentato la manifestazione insieme alla presidente della regione, Donatella Tesei, e all'assessore al turismo di Perugia, Giottoli. Abbiamo già annunciato l'anno scorso quando siamo dovuti a rendere all'evidenza dei fatti, ovvero della pandemia che ci ha obbligato a sospendere l'edizione di Perugia per poi riprogrammarla, come sapete, a Bastia Umbra e a Brio Fiere. Quest'anno però abbiamo appunto promesso di tornare con una doppia edizione, quella primaverile, nel centro storico della città. Avremmo voluto organizzarla nel centro della città, a Corso Vannucci, ma ci siamo dovuti anche qui rivolgere a una nuova location, quindi i giardini del frontone, e devo dire che probabilmente è una scelta molto ragionata e buona e sensata. 40 gli espositori per un programma che tutti i giorni, nello spazio dedicato agli eventi, prevede un calendario quanto mai vario di degustazioni di cioccolato fondente proveniente dai paesi più lontani e approfondimenti sul tema. Tra i maestri cioccolatieri, Nicola Maramigi. Tra gli abbinamenti più particolari, quello tra vino e cioccolato, a cura di Asso Sommelier e Umbria Top, ma anche tra grappa e cioccolato, a cura di Anag. 8 le aree ciocofanni dedicate ai più piccoli, una ciocopareide firmata dall'Accademia Creativa, insieme al Teatro dei Burattini e Spettacoli con le Bolle. Spazio anche alla solidarietà con We Love Peace, la mostra fotografica dedicata all'Ucraina, che propone 28 scatti sul tema delle uova pasquali, con una raccolta fondi da destinare ai profughi. Per la Presidente della Regione Tesei, un ulteriore momento di rinascita per l'Umbria, anche se la pandemia non è alle spalle e comunque bisognerà tenere alta l'attenzione per divertirsi, ma con intelligenza. Dobbiamo stare sempre molto attenti perché ormai ci dobbiamo abituare a convivere con questa situazione. Evidentemente la risposta dei vaccini in primis e anche delle attenzioni che abbiamo avuto sicuramente ci tutelano dal punto di vista della malattia. Tuttavia i contagi, come si vede, stanno aumentando dappertutto. Noi, come al solito, siamo i primi che affrontiamo queste tematiche, ma direi che ancora l'importante è che la pressione sui nostri ospedali non salga, cosa che in effetti stiamo assolutamente controllando e contenendo.